Allora, proviamo questo gioco ragazzi che io... com'è che si chiama? Fall Guys? Attenzione, vorrei provare a vedere questa cosa... Ma... Cazzo! Oh! Porca! Oh! Ha! Oh, no, 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 no! Oh! 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 Andiamo? Ma quello... Porca! No! Quello era ovvio, qua era ovvio, qua era ovvio, qua era ovvio... Tua madre è quella no Se vincendo una pistola bianca do 30.000 beats è la madonna e la madonna Sono pronto Cazzo mi qualifico Un caso si si buono così ritirati su hai toghi ti trago di merda Voi vai 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 che sto andando è qua WTF Ma cosa cazzo stai facendo Ma cos'è che sta succedendo perché si è andato dentro nel coso Ma sei scemo ma siamo Ma che sono messo bene qua Ma cazzo Eh vabbè NOOOOOO Y- Allora bravo E allora bravo E allora bravo WI- f dai f concentrazione per cortesia dai uomo rimane in piedi ho una sfida incredibile andiamo potremmo qualificarci potremmo qualificarci a lei piacciono molto le palle in faccia se cazzo andiamo a qualificarci pericoloso stare qua bravo xyuder ottimo non riesco non riesco dai vai se cazzo è passato lei andando ma non me ne frega un cazzo andiamo a qualificarci e let's go figa ecco il gole ecco il gole let's go la butta dentro mamma mia il gol di testa let's go la butta dentro l'occhio da 1 poi ha fatto un gol appena fatto vai 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 si l'autogol i ragazzi bravi attenzione spostando le palle ecco lo bravo a spostare le palle andiamo 4 a 1 che è stata doppiatta l'occhio trattato piatta vinta 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 la esige la esige e non arriva non ce la faccio non è impossibile che si deve continuare in perdenza verso il ritomo mario unico oh mio dio sto salendo veramente nooo troppo veloce vado 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 come cazzo si prende la corona nooooo nooo ma pensavo che mi ci dovessi buttare sopra no se non mi sto venendo da piangere raga nooo è la prima volta che dovevo grabbarla Barla e si qualifica per 42esimo Andiamo 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 Ma non dovete saltare stupidi idioti No, 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 rischi che rirovini la traiettoria Siamo primi siamo primi vai vai che siamo primi Ma hai forza ragazzi Fermate al blu bravo 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 andiamo a vincere E vai è chiusa e chiusa e chiusa non la fermano più No, perché ci butta fuori appena arriva la palla Andiamo Ecco che sto cercando Minchia questo sta rischiando duro guarda questo guarda questo Oh Anche secondo me Ah è la finale F ti prego fammela vincere F ti prego fammela vincere E vabbè Porco diaz alzati Facciamo imitare Porco student Non cazzo No 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 Piano 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 Vabbè faccio cagare il cazzo Dai ragazzi il percorso questo percorso e questo sta finendo let's go let's go andiamo e lo vince ma questo è livello è abbastanza bastardone ma perché ti bloccano e non si può fare nulla a volte le rubo una patatina a chiudere perché va no 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 Martino non oh Martino 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 no cosa fa le rubo una patatina dall'altra parte mi ha mandato non cerchi di arrampicarsi i vetri almeno mantenga il minimo di dignità che lei è rimasta dopo questa cosa per favore ma veramente non ho parole figa però ci sono dei cali oh oh FBI open up oh Suder lei è il primissimo e cazzo per forza sono il primissimo devi vedere come è successo oh dei cali oh ma infatti ho visto che volo che ha fatto ma adesso mi ballano per cheating venga l'ho vista volare con le patatine si oh 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 oh